Sono tanti i progetti portati avanti negli ultimi mesi dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del comune di Pescara. Tra questi oggi presentate VAI, ma tante sono state le attività che avete presentato. Sì, solo un mese fa abbiamo presentato Pescara Urban Space, sempre un progetto in collaborazione con l'amministrazione comunale Endas Abruzzo. E oggi siamo qui per presentare VAI per il quartiere Zanni. Noi daremo la possibilità per 24 mesi di usufruire di iniziative gratuite, di praticare sport ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Ma non solo, abbiamo pensato anche a dei laboratori di supporto dopo la scuola. Il quartiere Zanni ricordiamo che è un quartiere abbastanza complesso e ha bisogno di supporto, ma soprattutto del supporto dell'amministrazione e di tutti i nostri volontari. Vorrei fare un applauso importante all'Endas Abruzzo, ma non solo, ma anche al Capofila e al Fuego Abruzzo e a tutti i partner che hanno partecipato a questa splendida iniziativa. Siamo riusciti a portare 80.000 euro nel quartiere Zanni, un quartiere difficile dove faremo attività per minori, attività per over 65 e per donne, sia attività sportive che extrasportive. Quale sarà il ruolo dell'Endas in particolare? Sicuramente sarà quello di coordinare le attività in concerto con l'amministrazione comunale che ci darà una mano a selezionare anche i beneficiari. Abbiamo delle associazioni affiliate che si occuperanno di gestire le associazioni sportive e soprattutto le attività sportive che svolgeremo in questo progetto. Insieme vinceremo sicuramente, l'Unione fa sempre la forza. Grazie. 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 Grazie.